Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial Oggi sono qui per spiegarvi come scaricare un programmino un pochino differente dal solito Un pochino diverso Allora, è un programma molto semplice, molto piccolo, facile da usare Per registrare movimenti e click del mouse Molto utile per molti giochi Oggi lo andremo ad analizzare su un gioco chiamato Zombie Island Intanto andiamo sulla pagina di download, la quale vi metterò il link in descrizione E clicchiamo su download gratis, questo tasto grande in verde La guida per il download è molto semplice, basta andare sempre avanti e cliccare su install Alla fine dell'installazione vi uscirà questo simbolino qui Che sarà il collegamento sul desktop mouse recorder pro 2 Un semplice doppio clic vi aprirà il programma E passiamo quindi alla spiegazione di come funziona Allora, per prima cosa, prima di iniziare a cliccare su new record play save load Andiamo su edit e settings Questo passaggio è molto importante perché se no vi potrebbe bloccare il computer Quindi andiamo qui su queste 4 caselle e cambiamo a nostro piacimento i pulsanti Record stop key Questa sarà la combinazione di pulsanti che ci permetterà di iniziare la registrazione del mouse E fermare la registrazione del mouse Io ho messo ctrl più v per iniziare la registrazione E la stessa combinazione di pulsanti per fermarla Una volta che abbiamo fatto la nostra registrazione del mouse Possiamo dare l'inizio, il play O attraverso il pulsantino play che troviamo qui Qui, eccolo qui O se no attraverso un altro pulsanto Un'altra combinazione di pulsanti Io per esempio ho messo ctrl più w E questa combinazione vi permetterà di iniziare a far andare il mouse da solo E anche a fermarlo Quindi una volta che abbiamo trovato la nostra combinazione di pulsanti preferiti O quelli che ci vengono più spontanei Andiamo a cliccare su ok E quindi testiamo il nostro programma Andiamo su un gioco o un programmino che voi avete Io per esempio zombie island E iniziamo il nostro movimento del mouse predefinito Quindi clicchiamo Ok qui Clicchiamo ctrl più v per iniziare la registrazione E iniziamo i I nostri movimenti Invece sto cliccando Delle determinate aree Ecco qui Adesso ho finito E per farlo finire di nuovo Ctrl più v Perfetto Quindi adesso abbiamo salvato la nostra registrazione del mouse Un'ultima cosa da fare prima di dare l'inizio E andare su advanced E impostare un limite Io metto per esempio 0 Quindi mi ripeterà questi movimenti all'infinito Ma se voi per esempio vorrete mettere delle cose limitate E metterete Che ne so Per esempio 500 Quindi 500 giri Io metto 0 Perché in questo caso non mi serve E metto 0 Quindi illimitati E la velocità vi consiglio di non cambiarla Quindi mettetela su normale Perfetto E clicchiamo su ok Ora Leviamo Iconizziamo O leviamo la pagina semplicemente E clicchiamo su Ctrl più v Ed ecco l'inizio Ragazzi Allora in questo momento non sto Muovendo il mouse Ma il computer Sta andando da solo Questo è un modo molto semplice Per non perdere per esempio I secchi dei pescatori In questo gioco Ma anche in altri giochi E molto utile Per non andare Fuori orario Quindi anche se non si è al computer Si mette questo semplice programma Si fa funzionare Si dà il via E praticamente Il gioco va avanti Quando Vorrete finire il ciclo Di clic Ctrl più w E Semplicemente Exit per uscire E di nuovo Doppio clic Per Riavviarlo Spero che questo tutorial Sia stato utile E ci vediamo Ai prossimi video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti